e ti consiglio di spostarti più in giù nella tastiera qui ad esempio nel tasto due o tre volte al giorno con una pausa di qualche minuto tra una visto che abbiamo visto due accordi visto che abbiamo visto allora vediamo nel pdf come ok quindi cerca di tenere il tempo con il braccio destro su cominciamo dall'arpeggio di do partendo dalla quinta corda perché come abbiamo visto perché come sulle pause dobbiamo cercare di mantenere anche la direzione vaffanculo come abbiamo fatto quando abbiamo visto il passaggio tra questi due accordi che cazzo dico dice anulare medio mignolo la procedura c'è anche un secondo modo per fare questo cambio cioè quello di utilizzare no che cazzo dico secondo cambio non c'entra niente strano la minore ma da boh no vabbè ma non ci credo perché cazzo mi ha registrato quel deficiente qua se guardi nel pdf puoi nuotare la pennata della canzone è simile alla pennata precedente oh no aspetta uguale forse a proposito di accordi abbiamo visto gli otto accordi base in posizione aperta sia accordi che e quindi sbagliare alleluia alleluia l'abbiamo si guardate ma no aspetta uguale attrazione